Tecniche di seduzione, come conquistare una persona. Sicuramente ne hai sentito parlare e sicuramente ti sarà capitato di vedere degli annunci più o meno fantomatici che promettevano di poterla conquistare, di poterlo conquistare facendo esattamente queste mosse, questo comportamento, questa e quell'altra insomma. Magari sei anche stato tentato o tentata di approfondire l'argomento e poi non so effettivamente come è andata. Ora ti dico però perché non funzionano, perché sono una bufala e perché di fatto anche nella remotissima possibilità che dovessero portare un qualche tipo di risultato, questo risultato è completamente e assolutamente inutile al tuo benessere personale e relazionale e quindi inevitabilmente al benessere dell'altro. Ti dico tre motivi diversi più uno che è probabilmente il più importante di tutti. Punto numero uno, mancanza di autenticità. Come diavolo si fa a pensare di poter applicare una tecnica, quindi un qualcosa al di fuori di sé, per conquistare una persona. Si perde tutto, si perde la personalità, si perde le proprie caratteristiche, si perde la propria unicità, ok? Quindi di fatto noi presentiamo, portiamo all'altro o all'altra uno script e speriamo che questo script piaccia. Ma questo script non siamo noi, non siamo noi e quindi anche mal caso dovesse funzionare la cosa, di fatto non porterà a nulla. Perché? Perché venderemo un feticcio, un fake, qualcosa che di fatto non ci appartiene. Due, generalizzazione eccessiva. Quello che va bene per conquistare Mario, non va bene per conquistare Martina, Giovanni, Giuseppe, Camilla e via discorrendo. È troppo sempre tutto generico. Quello che funziona per conquistare un uomo non va bene per conquistare un altro uomo. Quello che serve per conquistare una donna non va bene per conquistare un'altra donna. Queste sono delle generalizzazioni. Allora con le donne ci si deve comportare così, allora con gli uomini ci si deve comportare cos'ha. Non funziona. Ci sono talmente tante differenze individuali, caratteristiche, elementi, sfumature, che di fatto le generalizzazioni vanno bene per un intervento o qualcosa di tipo grossolano, generico. Probabilmente va bene in una comunicazione di massa, ma non funziona in una comunicazione uno a uno, soprattutto quando c'è un interesse di mezzi. Punto numero 3. Fraintendimento delle dinamiche sociali. Le dinamiche sociali, l'interazione con l'altra persona, è fatta di emozione. Empatia, curiosità, scoperta, desiderio, interesse, passione. E non da azioni, o meglio, le azioni sono esclusivamente una conseguenza di un bisogno emotivo, di un qualcosa che noi sentiamo. Non possono stare a monte del nostro desiderio, della nostra emozione, del nostro bisogno, ma devono stare a valle. Sono un mezzo attraverso il quale le emozioni, i bisogni, trovano o provano a trovare soddisfacimento, non il contrario. E infine, il punto più importante di tutto, è che forse mettendo insieme questi tre elementi, il più uno che dicevo prima, va a chiudere il cerchio. La mancanza di rispetto. Se applichi, se studi, se usi le tecniche di seduzione, che cosa succede? È che manchi di rispetto a te stesso, a te stessa, all'altra persona. Perché non ti mostri per la persona che sei, non mostri le tue caratteristiche, le tue peculiarità, chi sei veramente, e non provi a capire l'altro. Perché da un lato sei concentrato o concentrata a mostrarti per quello che non sei, applicando questo comportamento, questa tecnica, questa strategia e che ne so. dall'altro, non sei davvero interessato o interessata a conoscere questa persona, ma sei impegnato o impegnata a rispondere a quello che fa. Quindi se fa così mi comporto cos'ha, se fa in quest'altro modo allora applico questa ulteriore strategia. Non funziona, è uno stress enorme. Dove sta il bello di viversi una relazione? Dove sta il bello di scoprire una relazione? Per riuscire effettivamente a conquistare un'altra persona, per riuscire a avere una relazione con un'altra persona, devi mostrare interesse e devi presentarla. Quindi sostanzialmente devi ascoltare per cercare di capire se effettivamente questa persona è per te interessante, vuoi approfondire la conoscenza, vuoi conoscerla, vuoi avere una relazione con lei e al tempo stesso devi mostrarti per quello che sei. Perché solo così c'è la sincerità sufficiente per la base poi dell'evoluzione futura. Tutto il resto sono, perdono il pregnaccio. Fammi capire nei commenti che cosa ne pensi, se ti trovi in questo discorso, se hai provato in passato ad utilizzare delle tecniche di istituzione e come è andata evidentemente. E come sempre ti ricordo che se non vuoi perdere alcun tipo di aggiornamento è sufficiente iscriversi al canale e attivare la campanellina. A presto!